18 gennaio 2022, via Pistoia, via Pistoia, ma dove si troverà questa via? Questo bell'albero accostato a quella finestra e devo dire che devo dire io sono la zona del municipio 7, Baggio, ma sì, sono uscito oggi con una bellissima giornata nonostante questo periodo che io personalmente sono rimasto in questa città sto scoprendo il mio luogo abitativo sempre più bello, sempre più bello ricordo 16 anni fa mi dissero, Baggio sono all'organ ebbene sono andato 16 anni fa, sono arrivato in questo luogo e l'organo l'ho suonato nel senso pittorico pittorico sì, perché voglio dimostrare a voi che oggi è arrivato un'email di questa zona qua, del rispettivo comune di Milano dicendo che tra due mesi nel periodo di Pasqua aprono un centro facoltativo per fare le mostre di pittura ecco, questa immagine è la chiesetta di San Napolinare Vecchia di Baggio, riprodotta su questo murales poi vai avanti, proseguo il mio cammino tra un mese qua ci sarà la primavera un panorama stupendo sebbene sono nel centro abitativo di una città metropolitana ho ricevuto, stavo dicendo prima queste mail dicendo lei sottoscritto può fare una mostra di pittura temporanea in uno spazio da noi specifico infatti mi sto incamminando per andare a vedere dov'è questo spazio vicino alla biblioteca tra due mesi si aprono le porte per una mostra di pittura dedicata al sottoscritto anche se non vendo ma l'importante è la facoltà che il comune di Milano Baggio zona mi ha lasciato questo luogo per esprimere le mie facoltà pittoriche dove io risiedo attualmente da pochi anni diciamo circa 15 anni questo è il parco abbinato vicino a casa mia eccola qua eccola qui sto guardando l'immagine della struttura di questa casa nuova dove hanno dato uno spazio espositivo ai quadri la domanda mia è stata accettata dopo tanti mesi e tra due mesi io avrò la possibilità di esporre le mie piccole opere d'arte anche se me stesso le ritengo valido e per altre persone non possono piacere ma è importante che ognuno si manifesti con il proprio io le sue capacità mentali dove riversa il suo carattere in uno stato visivo pittorico queste sono esattamente i giardini dove secoli fa c'erano bacchi da seta sì in epoca passata qui arrivavano i bacchi da seta ora dove c'è la struttura dell'epoca passata c'è esattamente il municipio e i carabinieri qui vi siedo io personalmente ad ammirare questo bel luogo con panchine nuove dove c'è la possibilità di fronte a me c'è la biblioteca e là come ho detto prima hanno fatto posto da poco tempo uno spazio espositivo che sarà dedicato solo ai pittori grazie di avermi risposto al mio e-mail che sono stato il primo a essere capace di integrare il mio io in questa odierna società dove io vivo, vivo nel senso naturalistico come adesso ad ammirare questi alberi secchi che si innalzano verso il cielo ad ammirare Baggio Vecchia dove io posso rivivere io dove voglio andare quando ho la sazietà del mio essere attraverso dove abito ma perché cerco il trove Valtellina, Val Chiavenna quando ho possibilità io di manifestare me stesso attraverso il mio abitato vicino a casa mia Aldo, un saluto dai giardini dove tempo orsono coltivavano il bacco da seta bellissimo, guardate il cielo di oggi io devo dire che ho scoperto interamente in questo periodo l'oro nel mio habitat cascinale dove io risiedo Aldo, Aldo, Aldo